Cristoforo Colombo, la scoperta dell'America. Cristoforo Colombo è stato un navigatore ed esploratore italiano, nato a Genova nel 1451 e morto a Valladolid nel 1506. È noto soprattutto per aver scoperto l'America nel 1492, un evento che ha avuto un impatto profondo sulla storia del mondo. I primi anni. Le informazioni sulla vita di Colombo prima del suo viaggio del 1492 sono scarse e frammentarie. Si ritiene che sia nato a Genova, in una famiglia di tessitori, e che abbia iniziato a viaggiare in giovane età, lavorando come mercante e marinaio. Nel 1476 si trasferì in Portogallo, dove continuò la sua attività di navigatore. Il progetto di Colombo. Colombo era convinto che fosse possibile raggiungere le Indi navigando verso ovest, attraverso l'Atlantico. Questa convinzione si basava su una serie di teorie geografiche, tra cui la convinzione che la Terra fosse sferica e che l'Asia fosse molto più vicina all'Europa di quanto si pensasse. Nel 1483 Colombo presentò il suo progetto al re Giovanni II del Portogallo, ma fu respinto. Nel 1484 si recò in Spagna, dove presentò il suo progetto ai re Isabella e Ferdinando. I sovrani spagnoli furono impressionati dal progetto di Colombo e gli concessero il finanziamento per un viaggio di esplorazione.Il primo viaggio. Il 3 agosto 1492 Colombo salpò da Palos della Frontera, in Spagna, con tre navi, la Santa Maria, la Nina e la Pinta. Dopo un viaggio di circa tre mesi, il 12 ottobre 1492 Colombo sbarcò su un'isola delle Bahamas, che chiamò San Salvador. Colombo era convinto di essere arrivato in Asia, ma in realtà aveva scoperto un nuovo continente, l'America. Colombo continuò ad esplorare le isole dei Caraibi, raggiungendo anche Cuba e Ispagnola. Nel dicembre 1492 tornò in Spagna, portando con sé oro e altre ricchezze.I viaggi successivi.Colombo fece altri tre viaggi nelle Americhe, nel 1493, nel 1498 e nel 1502. In questi viaggi scoprì nuove isole e coste del continente americano, ma non riuscì mai a raggiungere le Indi. La morte. Colombo morì a Valladolid nel 1506, in povertà e in disgrazia. Fu sepolto a Siviglia, ma nel 1542 i suoi resti furono trasferiti a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. L'impatto della scoperta. La scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo ha avuto un impatto profondo sulla storia del mondo. Ha permesso agli europei di entrare in contatto con un nuovo continente e le sue popolazioni, e ha aperto la strada alla colonizzazione dell'America. La scoperta dell'America ha avuto anche un impatto significativo sulla cultura europea. Ha portato alla diffusione di nuove idee e conoscenze, e ha contribuito a cambiare il modo in cui gli europei si vedevano e vedevano il mondo. La figura di Colombo. La figura di Cristoforo Colombo è controversa. Alcuni lo considerano un eroe, altri un conquistatore. Colombo è stato sicuramente un personaggio complesso e contraddittorio. Da un lato, è stato un grande navigatore e esploratore, che ha aperto nuove strade per l'umanità. Dall'altro lato, è stato anche un uomo che ha contribuito alla colonizzazione e alla distruzione delle popolazioni indigene dell'America. Nonostante le sue contraddizioni, Cristoforo Colombo è una figura fondamentale nella storia del mondo. La sua scoperta ha cambiato per sempre il corso della storia, e il suo nome è ancora oggi ricordato in tutto il mondo.